fratelli rossoleri amici rivali di youtube buona domenica buona domenica buona domenica buona domenica che bel weekend quando si vince prima di iniziare piccole sponsorizzazioni ragazzi nel primo messaggio trovate le magliette trovate le magliette trovate le magliette avete visto ieri il video di eric lo fate pure vedere felpe magliette e compagnia bella c'è di tutto e di più indie per cui fate il vostro gioco sconto alex 10 per cento signori miei donna uomo bambino cazzo e mazzi sempre presenti dunque poi un favore personale che c'è al prime mi faccia iscrizione al twitch per piacere ringrazio ancora ieri per la giornata al pello e davidino perché veramente lo metto sempre risalto ma quando si presentano con un quadro così e poi con un foglio così ragazzi mi avete veramente fatto commuovere ieri ragazzi e che volvermi a trovare sempre qua da solo visto che qua nella valpo non ho amici i miei amici che già siete voi quindi mi farebbe molto piacere perché erano amici rasta perché quando cambi vita devi tagliare tutte le persone che frequentavi prima che cadevi dove sono caduto io e io ho tagliato tutti voi di certo non mi avete mai fatto niente non avete ma non è che venivate al bar mi mi facevate bere anzi eravate sempre molto molto sobri al contrario mio ero sempre in aria come una bestia e anche chiedo scusa anche che mi avete visto in quelle condizioni molti che sono fatti tanti chilometri e avrei voluto abbracciare da sobrio e non di certo da un alcolizzato di merda meglio un abbraccio da sobrio e fidatevi che che l'abbraccio di un di un completo alcolizzato bene mi ha caduto il fogliato mio dei miei ragazzi adesso mi devo apprende comunque comunque allora secondo me avete avete la mia voglia la mia tutta la mia grinta tutta la mia cosa quando ho fatto video davanti premi venerdì e tutto quanto è secondo me l'avete confusa con un momento di un furia da tifoso a persona ragionevole perché ci sono due cose completamente diversi fra essere felici perché la propria fidanzata è felice cioè milan o essere presuntuosi sono due cose completamente diverse io quando milan vince io godo ma penso che un vero tifoso milanista anche più pessimista del mondo quando vince se vero tifoso è contento credo che sia il minimo se non sarebbe veramente una recitazione allo stato 10 davvero dove fa l'attore ecco io vi assicuro che sto veramente male quando non vinciamo ho fatto un weekend bellissimo solo a pensare che avevamo fatto la terza vittoria in tre partite che ci dà orgoglio che ci dà morale adesso dell'udinese che sarà una guerra io sto già pensando all'udinese più che al bairle vercuse sono sincero io sto pensando molto più all'udinese che al bairle vercuse naturalmente poi fa bene siamo felici quando giochiamo siamo quando abbiamo da parlare quando ci abbiamo da discutere siamo tutti molto felici però 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 c'è un però che non bisogna confondere il realismo dalla passione bisogna sempre comunque rimanere coerenti qual è il mio sogno adesso ve lo dico il mio sogno sarebbe quello di arrivare a natale neanche ci mettere la firma per essere primo ci mettere la firma anche per essere a 3 4 punti dalla prima ci mettere la firma ci mettere la firma eh sì fuori della champions non fuori della champions un sogno sarebbe una frega della champions sono sincero quest'anno naturalmente mi dà passione quando sento quella musica ma so che è una cosa che non siamo in grado di competere e non per colpa nostra sapete benissimo di che la colpa ha maggior ragione ancora doppia maggior ragione che adesso comunque l'undici di base nonostante è emerso royale scandaloso con faname non mi fa impazzire abbiamo fuori ben a serie che per me il centrocampista più forte che abbiamo però abbiamo un rider si è ripresa che c'è da dire che in quel ruolo lì comunque se ancora si deve migliorare nella fase difensiva però lo vedo più libero di toccare più pallone a lui piace avere la palla fra i piedi non gli piace quando la palla ce l'hanno gli altri però lo vedo molto molto più sul pezzo molto molto migliorato perché comunque dare i palloni dentro bravo sul tiro la porta quando la vede quando in porta fa gol però non sempre non sempre la mira però comunque devo ammettere che sanpei il buon sanpei miglioramenti li ha fatti e la cosa mi fa eternamente felice il sogno qual è quello che oltre che arriviamo via 34 punti dalla prima a natale mio sogno che la società non dica va bene tutto così che non deve andare sul mercato perché siamo 15 punti dalla prima e stiamo magari li a 5 se dalla zona dalla zona champions cioè che deve farlo perché comunque sia aspira a vincere qualcosa perché cardinale ti ricordo che siamo tifosi di milano e non ci interessano le tue stronzate americane quelle cose lì non ci interessa vincere trofei delle altre cose non ci importa nulla che vuole alzare il calcio non ci importa nulla te lo ripeto ancora non sempre non sentirai sti messaggi io questo quando sfogo ovviamente e per una volta nella vita sarebbe bello e comunque andiamo a coprire questa coperta corta che avevamo perché quando mi dicono il milan c'è una rosa forte io dico milan non è una rosa forte adesso c'ha un 11 di base se stanno tutti bene poi si che si recupererebbe anche benasser il prima possibile sarebbe molto interessante perché benasser con sto modulo qua 4 ci manca un mancino a centro campo sarebbe la perfezione il benasser che conosco io e non perché mi fa bene a fifa parentesi sono stato esonerato a fifa a due punti dalla prima in classifica non ho capito come evidentemente ho speso troppo quest'estate il budget è andato giù così sono uscito con il city con in europa league hanno esonerato figa ho preso il city non è che ho preso ho preso l'ens dio buono vabbè qui dovremmo riniziare ancora da capo la carriera su fifa comunque vabbè non vado a allenare altre squadre non ho lo stimolo ho altre offerte tutta da nazionali ma non ci vado la coperta corta sarebbe un difensore perché adesso c'è andata bene che gabbia sta affrontando un momento che penso che sia il più in forma della squadra c'è andato bene che fonseca si inventato finalmente il modo dove siamo più adatti a giocare non ci è andata bene ci siamo creati un buon gruppo perché il gruppo grazie a morata devo riconoscere morata è fondamentale per questo gruppo soprattutto come uomo di spogliatoio oltre che come calciatore utile alla squadra ebran si è calato veramente bene nella parte perché ebran a me piace sbaglierà un po di gol a me ebran a me piace poi che non sia un fenomeno sono d'accordo pure io che sia un ottimo giocatore però per me un ottimo giocatore nel milan ci può stare tranquillamente nel milan ci può stare tranquillamente e quest'anno io ho detto vi sarà un giocatore che verrà enormemente fuori che si chiama oca for soprattutto con questo modulo che abbiamo di giocare perché abbiamo una seconda punta in più perché jovic è impresentabile ok seguersi qua ma guardate non voglio neanche spendere per il terzino perché c'è già lì gimenez che per me ne fa ne fa due con emerson royale e calabria ne fa due perché se devo scegliere tra emerson e calabria io ti dico calabria ancora c'è qualcuno mi ha detto è molto meglio emerson royale no per me è meglio è meno peggio calabria non meglio meno parla grossa è molto meno peggio calabria comunque a parte questo il sogno è quello che andate a prendere un centrocampista forte centrale e magari mi portate a casa jonathan david da avere quattro punte veramente valide mi fate fuori jovic è riuscita a piazzare in qualche maniera jovic ecco il il mio il mio sogno sarebbe quello non dico tre acquisti nella campagna di cose che sarebbero troppi anche se magari non vogliamo prendere un attaccante almeno già prendiamo jonathan david paghiamolo per l'estate poi d'estate potete anche non farmi il mercato soltanto prendere un terzino destro e basta ma un centrocampista un difensore di livello ci vogliono non mi voglio vedere se si rompono in due la coppia centrale pavolo ci mettono di fianco ciao che va in confusione pavolo ci adesso difensore che dovrebbe giocare di fianco e gabbia se si fa male gabbia in questo momento abbiamo un problema ragazzi abbiamo un problema grosso anche abbiamo un grosso problema mi auguro che sia sempre bene perché vedo tomori nella sua nella sua ancora non cioè perde dei palloni ragazzi sulla rega di fondo che li butta in falla laterale quando si dovrebbe appoggiare tranquillamente a magnan completamente libero ne ha persi quattro l'altra sera gli ho contati che la mette in falla laterale perché non è tranquillo è un ragazzo non tranquillo in questo momento meglio di altre volte sta facendo meglio di altre volte confronto alla lazio quando entra in anticipo che invece deve 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 restare dietro comunque cara società tira fuori il grano per natale vogliamo sognare i sogni si raggiungono con i sacrifici non avete fatto sti gran sacrifici d'estate andiamo a vedere quanto abbia speso noi quanto ha speso gli altri perché la spesa bisogna anche essere equilibrata con i soldi che sono entrati sono i soldi di decatler e degli altri che abbiamo regalato abbiamo già fatto tante troiate nel mercato e ancora ci sta dicendo bene ci manca ci bastava poco per avere per essere primi oggi ci bastava molto poco prendere ebran prima prendere fofana prima prendere bella nova invece di emerso royal non far far male a benasser farlo allenare che non sarebbe fatto male invece di metterlo sul mercato e poi neanche rimpiazzarlo ci basterebbe poco così prendere un messa parametro zero ormoso parametro zero ci ci mancava poco per comunque si avere più di punti di quelli che avevamo quindi vogliamo sognare bisogna far sacrifici cara società bisogna spendere so che la parola spenderti famigliare il vomito però a noi ci fa godere detto questo ci sentiamo nel pomeriggio stasera solita live un bacio un abbraccio ciao a tutti